SONIA Che cazzo è? SONIA 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 Mosco Che cosa? Non capisco Piano, piano, non ti affaticare Oddio Cosa vuol dire? Oddio Ferma, polizia No, 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 io non c'entro niente Te lo giuro, sono uscita dal bagno, era così L'ho trovata così Non sono stata io Va bene, ti credo Ti ha detto qualcosa? No, ha detto di un bosco Bosco? Sì Poi, altro? Non lo so Ha detto Una borsa verde Una borsa verde? Sì Perché c'è una borsa verde qui? Non lo so Non lo so Che cazzo fai? Aprite, polizia Ferma Scusate solo, non l'hai da vista È armata Che è successo qua? Una ragazza, capelli lunghi, maglietta verde Forse è stata lei Non lo so, sei cosa in bagno Esci con le maglie alzate, non ti succederà niente Scorri Grazie a tutti